E' con grande piacere che questa mattina do il benvenuto nei nostri studi a padre Rosario Messina, superiore provinciale dei Camigliani, nel sud Italia. Buongiorno, benvenuto padre Rosario. Grazie. Allora, nei giorni scorsi si è tenuto a San Giovanni Rotondo un convegno dal titolo San Camillo dell'Ellist, l'attualità di un grande riformatore. Che cosa hai messo di interessante da questo convegno? E poi ci spieghi questa bella definizione che avete dato a San Camillo, grande riformatore. Bene, anzitutto San Camillo è un santo, quindi tutti i santi sono grandi, però San Camillo non è molto conosciuto dal grande pubblico, anche se stiamo preparando, allestendo una fiction per la tv in due serate per farlo, ecco, veramente lanciarlo o rilanciarlo in occasione del quarto centenario della sua morte avvenuta il 14 luglio del 1600. Ci dobbiamo preparare un po' per tempo perché soprattutto qui a San Giovanni Rotondo è il luogo, uno dei tre luoghi più importanti della sua vita. è nato a Bucchiani qui in Abruzzo, si è convertito nella Valle dell'Inferno che qui in San Giovannese o l'Associazione San Camillo che porta avanti questa promozione, l'hanno definita Valle della Conversione, dove c'è un'ara con una grande croce rossa di 30 metri, quindi dove San Camillo si è convertito e a Roma soprattutto dove lui ha operato nel campo dell'assistenza ai malati, anche se poi ha girato 28 volte l'Italia a cavallo e ha introdotto i suoi volontari, i suoi crociati in tutti i più importanti ospedali d'Italia, dal Pammatone di Genova, all'ospedale Maggiore di Milano, Santo Spirito di Roma, San Giacomo, Annunziata Pellegrini di Napoli e così anche in Sicilia. Quindi è un grande santo poco conosciuto e che faremo conoscere soprattutto in questo periodo e l'occasione del convegno è stato quello di far conoscere una bellissima vita di San Camillo scritta dal professore Mario Spinelli per l'edizione di Città Nuova, una vita avvingente, perché la vita di San Camillo è un romanzo avventuroso e lui l'ha saputo scrivere in maniera così talmente intrigante, talmente curiosa che uno lo legge tutto di un fiato e quindi ho portato qui a San Giovanni Rotondo questo professor Mario Spinelli dove nell'aula, nel chiostro che sta all'interno del palazzo comunale ha illustrato un po' questa vita, ma soprattutto il messaggio. Perché grande riformatore? Perché attuale dopo quattro secoli? Perché uno slogan, la sanità italiana, ma anche europea, ma anche mondiale, è una sanità malata, nel senso che si vuole guarire i cittadini dalle malattie, ma curando solamente l'uomo e quindi l'uomo viene un po' come smembrato, come diviso. L'uomo esiste solo se unito alla sua anima, al suo cuore, alla sua psica, ai suoi sentimenti. E invece c'è una, in genere, tranne lodevoli eccezioni, un'assistenza molto disumana, cioè il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario sono un po' presi dal lavoro, forse dalla routine, dall'abitudine, per cui il malato non si sente amato, non si sente veramente curato nella persona. Perché oggi la biomedicina ha fatto delle grandi scoperte. Non si può curare solo il cuore malato, il fegato malato, se non si cura l'uomo. Perché la malattia porta paura, angoscia, tristezza, solitudine, depressione. E queste altrettante malattie della persona interferiscono. Un malato che piange, un malato che trema, un malato che ha paura, un malato ansioso guarisce difficilmente. E quindi anche la cura stessa del medico, dell'infermiere, non producono tutto a quell'effetto. Se fosse invece un malato curato, amato, accudito. E San Camillo è il riformatore ancora oggi per le sue regole che ha scritto. Chiaramente lui è andato a scuola a imparare a leggere e a scrivere a 33 anni. I ragazzi di Roma al collegio romano, oggi università gregoriana, lo pigliavano in giro e quasi in mezzo latino. Diceva, tarde venisti, sei venuto tardi a studiare. Lui alto, due metri, tre centimetri gigante, andare alla prima elementare insieme ai ragazzi, al collegio romano. Ma lui che era abruzzese, testardo e che è rimasto anche testardo dopo la sua conversione avvenuta a 25 anni, ecco si è dedicato, ha voluto imparare a leggere e a scrivere, poi è diventato anche sacerdote, per scrivere le regole di come si assistono i malati. Regole che immagino rimangano attuali anche oggi, ecco perché è l'attualità di un grande riformatore. Certo. Ecco, magari ritorneremo su questo aspetto importante della vita di San Camillo. Vogliamo ricordare qualcosa che ha segnato la sua esistenza, il momento della conversione. Il momento della conversione, ecco, lui era un ragazzo sbandato, un giovanotto disorientato, perché è nato da una madre a 63 anni, quindi già la chiamavano mamma Elisabetta dai capelli bianchi. Poi viene partorito per vergogna tutti i parenti di Bucchiani, questa piccola cittadina medievale che era diventato un evento straordinario. E la mamma per vergogna, un po' per paura, un po' per non fare le scale, perché mentre si trovava in chiesa la messa 25 maggio, giorno in cui è nato anche San Pio, da Pietralcina, è nato anche San Camillo. Quel giorno era la festa del patrono, quindi lei è andata alla prima messa. Poi ha sentito le doglie del parto, è corsa a casa e non è voluta salire al primo piano, con gradini alti, ma si è fermata a piano terra nella stalla. E ancora oggi a Bucchiani c'è la stalla dove lui è nato. Per cui questo giovane sbandato, la madre l'ha lasciato orfano a 13 anni, il padre non c'era mai in casa che era sempre comandante di un gruppo di militari, è cresciuto senza amore, senza affetto, un ragazzaccio di strada, poi un giovinastro che sfidava spesso a duello mortale per il gioco delle carte e dei dadi. Un vizio veramente che l'ha costretto e l'ha portato alla miseria. A Napoli, a 25 anni alla sanità, l'hanno spogliato vivo i napoletani. In una bettola ha perso tutto, si è giocato anche i pantaloni, si è giocata anche la camicia, ha perso tutto. E da lì, dalla miseria più estrema, ha iniziato un cammino. Si è messa a girovagare fino ad arrivare nelle Puglia, a Manfredonia, davanti alla chiesa di San Domenico e lì si mise a chiedere l'elemosina. E un capomastro, vedendolo disoccupato, invece di fargli la carità, lo portò al convento dei Cappuccini, dove stavano ristrutturando questo convento vicino al cimitero. Per cui Camillo, piano piano, addomesticato dai frati, anche perché aveva uno zio Cappuccino da parte della madre, lo presero a buon volere, divenne un manovale e quindi lo utilizzarono anche come giovane di fiducia. Dovevano portare, mandare delle masserizie al convento di San Giovanni Rotondo. E quindi Camillo si mise col mulo, primo febbraio 1575, si mise in cammino percorrendo questo vecchio sentiero, questa vecchia strada che i pellegrini frequentavano da Manfredonia al santuario di San Michele Arcangelo e quindi per arrivare a San Giovanni Rotondo. Camillo impiegò quasi tutto il giorno col mulo a percorrere questo sentiero. La sera al convento fu ospitato alla cella numero 5, che poi divenne storica, amata e prediletta anche da San Pio, che la scelse come la sua cella. E padre Angelo, il guardiano, adesso al convento c'è un bel ricordo di questo evento, se lo mise sotto braccio, lui alto, 2 metri e 3 centimetri, passeggiano quasi un'ora e più. Non si sa che cosa gli avrà detto, ma sicuramente padre Angelo, ispirato dallo spirito, gli avrà detto di cambiare vita perché aveva asciupato 25 anni della sua esistenza. È stato fatto che tutta la notte, lui dopo racconterà, non riuscì a dormire. Ecco, questo senso di vuoto di tanti ragazzi di oggi a 25 anni che non sanno più perché vivono dopo aver esaurito le loro ideali più umani, denaro, sesso, divertimento, alla fine provano un disorientamento e quasi una nausea. Camillo è in questo momento, per cui la mattina riprende il cammino di ritorno e in questa valle dell'inferno sente le voci della mamma che prima di morire gli diceva figlio mio, vedi che ti ho sognato con una croce rossa sul petto, tu sarai un delinquente, stai attento, cerca di fare il bravo, dedicati alle opere di bene. Ma Camillo tutto questo l'aveva dimenticato. Ma in quel momento, in quel silenzio di quella vallata, le voci della mamma, le voci del frate, di padre Angelo della sera prima, sono diventate così assordanti che si è buttato per terra e dice il Cicatelli, il primo storico dell'ordine che ha fatto la prima vita manoscritta, che prese le pietre del Gargano e cominciò a battersi il petto, a piangere, a dire basta, non più un mondo, non più un mondo. Da questo momento voglio rinascere, voglio essere una persona diversa. Tornato al convento, un po' stravolto, cambiato, disse mi voglio fare frate. E i frati un momentino rimasero così stupiti, meravigliati, ma poi videro che voleva veramente cambiare vita. E dopo un periodo di prova, veramente lo accettarono come novizio cappuccino. Alto e gigante, come lo chiamiamo? Fra Cristoforo, perché San Cristoforo così portava i pellegrini, i viandanti da una riva all'altra del mare con le braccia. Per cui Fra Cristoforo diventa un buon frate e lì conosce il Vangelo, la carità ai poveri che San Francesco aveva insegnato, l'amore al crocifisso, alle piaghe di Cristo crocifisso, alle piaghe dei malati che San Francesco aveva scoperto tra i lebrosi. E quindi da lì inizia, però, una piaga al ginocchio di cui aveva sofferto anche prima, lo costringe ad andare in ospedale San Giacomo a Roma degli incurabili. E così due o tre volte fa questo viaggio, la piaga si riapre sempre, finché i frati cappuccini lo rimandano a casa dicendo «non puoi essere frate cappuccino perché questa tonaca ruvida ti riapre continuamente la piaga». Per cui Camillo dice «soldato di ventura no, giocatore di carte no, cappuccino no, sono malato» e quindi da convertito aveva visto che i malati stavano in mezzo ai vermi, abbandonati sui pagliericci, questi inservienti che bastonavano, picchiavano, insultavano i malati e quindi che non avevano cura di loro. Sogna questa riforma, per cui ha questa immagine che poi userà sempre «noi dobbiamo assistere i malati come una madre assiste il suo unico figlio inferno». ha detto «guardate con quale cuore» e lui ripeteva sempre «più cuore in quelle mani, fratelli, più cuore». Questa è la grande riforma. Se oggi tutti i malati si sentissero, non in questa figura e in questo atteggiamento così ideale, il medico, l'infermiere, che abbia questo cuore di fratello, questo cuore… Ecco, non diciamo che tutti debbano per forza vivere la fede cristiana, la carità di vedere Cristo nel malato, ma basterebbe anche essere umani e oggi l'umanizzazione è una scienza, è un ideale, è un traguardo che la medicina si sta proponendo, umanizzare gli ospedali, umanizzare l'assistenza. Si può insegnare l'umanizzazione negli ospedali? Io la insegno anche a Roma, al Camilianum, che è la nostra università mondiale che rilascia la licenza e la laurea in teologia pastorale sanitaria. La insegno in molti corsi di operatori sanitari con i crediti. È una materia nuova e umanizzare significa tener conto che nel letto c'è un uomo, un uomo che non solo corpo, materia, ma spirito, è la stessa organizzazione mondiale della salute che ha definito la salute, che cos'è la salute, anche se è un po' troppo utopistica come oggi viene giudicata, completo benessere, fisico, bene, corpo, ma poi c'è psichico, chi la cura la psiche nei nostri ospedali? La psiche, la psicologia, lo spirito, la mente, il cuore, questo è tutto psiche. Quindi questo secondo binario manca, ecco, chi cura la psiche dei nostri malati negli ospedali? È soltanto una cura, una terapia farmacologica, una terapia riabilitativa, ma non una terapia dell'uomo, un incontro con la persona, lenire, fugare, l'ansia, la paura, la tristezza, la solitudine. Tutto questo è umanità e Camillo diventa maestro in questo senso, diventa modello per quanti operano nella sanità. Sono diversi papi, Leone XIII, Pio X X, Paolo VI, che l'hanno proclamato patrono dei malati e di coloro che assistono ai malati, perché solo attraverso una sanità umana, ecco, veramente i cittadini si sentiranno amati, accolti e curati e anche il paziente guarirà più presto. Se al cibo corporale, se alla medicina verrà accompagnato il sorriso, la carezza, la parola buona, la vicinanza. Diciamo che ritroviamo in San Camillo dell'Ellis anche molti aspetti in comune con San Pio, nonostante siano distanti tanti e tanti anni, centinaia di anni. Più cuore in quello che fate, diceva San Camillo, il cuore nelle mani, appunto, diceva San Camillo. Ricordatevi di sorridere agli ammalati, ricordatevi il sorriso al letto dell'ammalato, diceva Padre Pio. Dunque, in un certo senso, ecco, le loro strade si sono incrociate. Certo, tutti i santi, anche perché San Pio è stato sempre vicino alla sofferenza, ecco, le stimmate gli causavano dolori atroci, quindi lui viveva sulla sua pelle questa sofferenza e quindi la inculcava come cappuccino, come fedele seguace di San Francesco, ecco, la inculcava e lo accettava, lo viveva, ecco, pur nella sofferenza, un po' nella rudezza, però con tanto amore e con tanto cuore, per cui curava le malattie dello spirito attraverso il sacramento della riconciliazione e quindi curava tante ferite, tante malattie dello spirito, ma molte volte dava coraggio e speranza anche ai malati che accorrevano a lui. Padre Mestino, dunque, il carisma dei Camigliani è essenzialmente questo? Sì. Quello che riguarda la curazione. Assistere ai malati e in questo senso noi abbiamo nel mondo moltissimi ospedali che gestiamo noi, anche in Italia, anche se diventa sempre più difficile, ecco, un'assistenza costosa e che non sempre viene ripagata con puntualità dalle regioni e così via, per cui molti ospedali religiosi entrano in crisi finanziaria, ospedali anche di grande spessore, di grande livello, anche non solo a livello di terapia, ma anche a livello proprio di umanità, perché è il secondo binario che cerchiamo sempre di curare. Per cui, ma soprattutto, oltre che gestire ospedali, anche formare il personale a questa umanizzazione, per cui lavoriamo molto su questo campo, quindi la pastorale sanitaria nelle diocesi, la pastorale sanitaria tra i medici e gli operatori sanitari, proprio perché, ecco, bisogna dare quest'anima, questo cuore alla sanità, altrimenti diventa una terapia fredda, arida e mal accettata da parte dei pazienti e soprattutto anche dei parenti. Ritornando all'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a San Giovanni Rotondo, questo in preparazione del quarto centenario della morte di San Camillo dell'Ellis. Per cui stamattina, tra l'altro, proprio io vengo dal Palazzo Comunale, stamattina abbiamo avuto un incontro da un lato con l'associazione San Camillo, che è nata alcuni anni fa qui a San Giovanni Rotondo, per promuovere e portare avanti questo discorso di farlo conoscere proprio qui a San Giovanni Rotondo e nella Valle dell'Inferno dove si è convertito. Ma poi rivalutare questo antico percorso compiuto da San Camillo, che adesso è molto abbandonato, andiamo tutti gli anni, il 2 febbraio, in pellegrinaggio, portiamo pellegrini da Napoli, da Bucchianico, da altre città, anche da San Giovanni Rotondo, e però ecco la strada è sconnessa, è disagiata, per cui stiamo facendo con il Comune, anzi dobbiamo sottoscrivere un protocollo d'intesa, perché i camigliani, insieme all'associazione, insieme al Comune, ecco ci coalizziamo per trasformare questo luogo abbastanza, tanto bello a livello paesaggistico, a livello anche di solitudine, a livello anche di incontro con la natura e con Dio per la storia di questo santo, per cui bisogna investire, c'è in progetto di creare una cappella, un cenobbio, dei parcheggi, una strada che porti comodamente a questa valle dell'inferno, quindi rendere questo luogo ecco veramente accessibile a tutti i pellegrini, per cui questo triangolo, San Michele Arcangelo, San Pio da Pietralcina e San Camillo, ecco diventi veramente un luogo di incontro con Dio, di incontro con la natura, di incontro anche con i malati, con coloro che cercano momenti di serenità spirituale, di conforto. In conclusione Padre Rosario, la nostra emittente, Tere Padre Pio, arriva in tante case, soprattutto anche in luoghi come gli ospedali dove ci sono tanti malati, anche in case private dove ci sono persone che soffrono nel corpo e nello spirito. Lei come superiore dei camigliani del sud Italia, che cosa si sente di dire a coloro che sono sofferenti? Ecco che la sofferenza è qualcosa che non era previsto nel piano di Dio, è stata la ribellione, il peccato a introdurre la sofferenza nel mondo perché Dio ha creato l'uomo per la felicità, ciò nonostante Dio non si è arreso. Ecco Gesù che è venuto tra di noi ha preso su di sé la condanna, ha preso su di sé il dolore. Il dolore ci fa capire anche la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra miseria, ma la sofferenza non ci deve abbattere, non ci deve scoraggiare. Oggi la stessa biomedicina dimostra che un malato che affronta la malattia con coraggio, con serenità, con forza combattiva e che viene coinvolto nella terapia è un malato che soffre di meno, un malato che riceve già dal suo stesso sistema nervoso quelle famose beta-endorfine che sono come dei calmanti, degli oppiaci endogeni che leniscono il dolore. Noi ce ne accorgiamo negli ospedali, per esempio, vado spesso a Napoli all'ospedale Pascale, è l'ospedale oncologico dei tumori più grandi del sud Italia e lì vediamo un malato disperato, angosciato, che si arrabbia, che bestemmia, che si vuole suicidare, che non accetta. Un malato invece coraggioso, forte, sereno, quasi sorridente, che prega, che si affida a Dio. Il malato disperato ha bisogno di tre morfine al giorno. Il malato sereno, che pure ha la stessa gravità della sofferenza e della malattia, ha forse bisogno di mezza fiala di morfine al giorno. Questo lo dicono i medici, è dimostrato. Quindi io dicevo ai malati, quando facevo l'assistente spirituale al primo policlinico di Napoli, signora, ma lei vuole guarire più presto? Lei vuole soffrire di meno? Dipende anche da lei. Non dipende solo dal medico, dall'infermiere, dal farmaco. Dipende dalla sua posizione, come affronta la malattia. La malattia la deve vincere, la deve superare. E quando non si può vincere e superare perché è incurabile o inquaribile, allora guardi Cristo crocifisso e non veda nella malattia un castigo, una punizione, una maledizione. Perché Gesù, Dio, ha voluto provare, mettersi in croce, essere messo in croce per dire imparate da me, consolatevi. Perché il dolore e la malattia non è una punizione o una maledizione. La malattia fa parte ormai della nostra storia, ma Cristo l'ha redenta, Cristo l'ha salvata, diventa fonte di santità. Tutti i santi più o meno hanno sofferto e più o meno si sono dati anche a curare i sofferenti, perché ogni santo ha fatto carità. Per cui a tutti i malati inviterei a dare uno sguardo a Cristo crocifisso, a Cristo in croce. In quelle tre ore di agonia, che per molti malati sono momenti di disperazione e di solitudine, le cose belle che ha fatto Cristo in quelle tre ore sono cose meravigliose. Ha aperto le porte del paradiso a un ladro, a un brigante. Ha lasciato la sua madre in testamento a tutti noi. Ha pregato per noi, per quelli che lo crucifigevano. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per cui, soltanto invocando Cristo e accettando quella croce, ecco, veramente diventa sopportabile e accettabile. Tutti i malati che veramente soffrono così non si disperano, però sperimentano, toccano con mano che Dio è con loro. E vorrei dire anche che Dio si serve di noi. E anche Gesù ha avuto bisogno durante l'agonia, durante la sofferenza dei volontari. Ha avuto bisogno dell'angelo nell'orto degli ulivi. Ha avuto bisogno del Cireneo. Ha avuto bisogno della Veronica. Ha avuto bisogno delle piedonne, quelli che stavano sotto la croce. Quindi non dimentichiamo mai. Sì, siamo cristiani, ma essere cristiani non lo si dimostra solo perché andiamo in chiesa o preghiamo, facciamo la comunione. Perché se a questo non segue la carità, l'amore per gli altri è una preghiera vuota, senza senso, un'eucaristia che non produce frutto. Dalla Cristo-eucaristia a Cristo nei malati. C'è un mistero in un po' di pane divino e io credo che c'è Cristo presente, mi inginocchio, adoro. Lo stesso mistero c'è nel malato perché Gesù dirà io ero malato, io avevo fame, io ero nudo e tu mi hai curato con amore. Questo è una grande ispirazione ai malati di soffrire come Cristo e agli operatori sanitari volontari di fare, ecco, questo servizio veramente con cuore di madre. Bene, con queste belle parole ringrazio padre Rosario Messina, superiore provinciale dei Camigliani nel sud Italia per essere stato con noi questa mattina. Grazie per la sua testimonianza, per quello che fate voi Camigliani e per aver lanciato questo forte messaggio a quanti ci seguono. Noi ci fermiamo ancora qualche istante, di nuovo linea alla regia e poi di nuovo insieme.